Luca, capitolo 19, dal primo verso, Dio sia lodato. Gesù entrato in Gerico attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla perché era piccolo di statura. Allora per vederlo corse avanti e salì sopra un sicomoro perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse Zaccheo, scendi presto perché oggi debbo fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Veduto questo, tutti mormoravano, dicendo, è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore, ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri. Se ho affrodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Gesù gli disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Vogliamo pregare un momento insieme, eh? Gloria a Dio. Padre, grazie, perché anche stasera stiamo gustando la bellezza, la bontà della tua presenza. Grazie anche per questo episodio biblico che abbiamo dinnanzi ai nostri occhi, dinnanzi al nostro cuore, attraverso questa storia, la storia della conversione di Zaccheo, parla al cuore di ciascuno di noi, soprattutto a chi stasera ha un particolare bisogno di riceverti nella propria vita e nella propria casa, in particolare a chi è perduto e ha bisogno di essere salvato. E noi ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria al Signore. La storia di Zaccheo. Quante volte abbiamo letto questo testo meraviglioso della parola di Dio. Tante sono state le riflessioni. Vogliamo continuare a pregare nel nostro cuore affinché anche quello che il Signore ha messo e sta mettendo, metterà nel mio cuore, potrà essere di benedizione per ciascuno di noi. Gesù entra in Gerico e attraversa la città. Gerico è considerata una città di peccato, di perdizione, una città particolarmente bisognosa. Potremmo dire, perché lo è dal punto di vista geografico, i bassi fondi proprio della fede e della perdizione dell'uomo. E lì c'era, dice qui il testo, semplicemente, in modo puro, un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco. E abbiamo letto che quest'uomo aveva un desiderio, quello di conoscere Gesù. Ma fermiamoci intanto al nome. Un uomo di nome Zaccheo. Mentre Gesù attraversava la città di Gerico, ecco che Gesù incontra un uomo che si chiama Zaccheo. Specifica la scrittura che è un pubblicano, ciò vuol dire è un peccatore, è un uomo che si è dato a una vita di corruzione, di peccato. Soprattutto legato all'inganno, alla truffa e alle ricchezze, perché era una sorta di esattore delle tasse di quel tempo e tratteneva per sé buona parte delle tasse che avrebbe dovuto versare anche ai romani che occupavano quella zona a quel tempo. Quindi Zaccheo, pubblicano e ricco. Viene detto il nome di questo uomo, di questo ricco, Zaccheo, non è come nella storia, ma per esempio del ricco epulone, dove non viene riportato il nome e rimane quell'uomo senza un nome, quindi senza un'identità, per dire un uomo ricco. Ma qui c'è un nome, c'è Zaccheo, e laddove c'è un nome c'è anche un rapporto interpersonale. Laddove c'è un nome, quindi c'è una storia, la storia di una persona, di un individuo, perché c'è il nome, la storia di Zaccheo. Poi l'episodio biblico ci porta addirittura con Gesù nella casa di quest'uomo, quindi dove c'è un nome, per esempio Marta, Maria, Lazzaro, Zaccheo, Bartimeo, figlio di Bartimeo, eccetera, dove c'è un nome, ripeto, c'è una storia, c'è un rapporto interpersonale con una persona, dove c'è un nome c'è un'esperienza, l'esperienza di un individuo, l'esperienza della sua vita, l'esperienza della sua famiglia. Dove c'è un nome c'è anche un desiderio, in questo caso c'è il desiderio di vedere chi era Gesù, quest'uomo aveva un sentimento, aveva un desiderio, dove c'è un nome c'è anche un'apertura e vediamo l'apertura di quest'uomo, c'è una disponibilità anche al cambiamento, non ci troviamo di fronte ad un uomo chiuso verso Gesù e verso il suo messaggio, ma qui vediamo una disponibilità, il desiderio praticamente di un cambiamento e di ricevere qualcosa di nuovo, quasi o certamente a testimoniare di una necessità, di un bisogno che c'è nella vita di quest'uomo che si chiama Zaccheo, pur essendo ricco e comunque un peccatore e quindi probabilmente come peccatore egli ha provato a trovare soddisfazione in tutto ciò che ha potuto, ma evidentemente nulla è riuscito a soddisfare il suo cuore, persino le ricchezze sembra di capire che non siano state sufficienti per appagarlo, ma fermiamoci ancora su questo nome, cerchiamo di approfondire un po' perché questo nome parla di me, questo nome parla di te, ci parla del nostro rapporto con il Signore, ci parla della nostra storia, ci parla quindi dei desideri del nostro cuore, ci parla dei nostri peccati, ci parla quindi di ciò che il Signore vuole fare nella nostra vita e vogliamo fermarci soprattutto al significato di questo nome perché ci permette di comprendere meglio l'infinito amore di Dio per tutte le sue creature, nessuna esclusa, perché Dio non fa alcuna parzialità ed egli non si interessa di alcuni soltanto e di altri no, ma attraverso il significato di questo nome, ripeto, comprenderemo l'amore di Dio, l'infinito amore di Dio per tutte le sue creature, ripeto, senza trascurarne nessuna. Dice la parola tu nulla disprezzi di ciò che hai creato. Zaccheo quindi il capo dei pubblicani, quindi vuol dire che era il capo dei peccatori, era capo di un'organizzazione di gente che amava la vita in qualche modo e amava divertirsi e amava soprattutto peccare. Zaccheo quindi il ricco è una creatura che Dio non può dimenticare, che Dio non può non ricordare perché Dio ha tanto amato il mondo e quindi il mondo intero che ha donato il suo figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi l'intenzione di Dio è quella di raggiungere chiunque, ognuno, affinché ognuno abbia l'opportunità di ascoltare la sua parola e di essere lavato, di essere purificato. Ognuno, ogni uomo verrà ricordato da Dio perché Dio si ricorda di tutto ciò che è perduto, di tutti coloro che sono perduti, tutti coloro che sono lontani, che sono immondi ed egli ha il potere di purificare con il sangue del suo figliuolo Gesù Cristo e ha il potere quindi di lavare ogni uomo dai peccati e di dargli una vita nuova. E quindi Zaccheo è il nome di ognuno di noi. E qui c'è un nome che ha un bel significato, un bel significato pieno di allusioni, potremmo dire tante cose. Nasce da una radice, Zaccar in originale, che vuol dire ricordare o più correttamente si riferisce a Dio che ricorda. In realtà significa Dio ricorda, ma ha un'estensione che vuol dire anche puro. Ecco perché dicevo ha un bel significato pieno di allusioni e quindi dal significato di questo nome nella lingua di quel tempo Zaccheo vuole significare Dio ricorda e purifica. È una bellissima immagine dell'amore infinito di Dio che si ricorda di ogni uomo ed è pronto a purificare ogni uomo. Questo è Zaccheo. Quell'uomo piccolo di statura, come dice la scrittura, respinto, distante da tutti a motivo del mestiere che faceva e molti studiosi ritengono che fosse addirittura molto odiato, soprattutto dal popolo dal quale gli esigeva le tasse e pressava quindi le persone a dare molto di più e buona parte la frodava egli stesso e quindi rimaneva per sé. Quindi Zaccheo, piccolo, respinto da tutti, non amato, Gesù lo chiama e va proprio in casa sua. Entra in casa di quest'uomo suscitando addirittura le critiche della gente di Gerico che diceva ma come? C'è tanta brava gente, gente onesta a Gerico e lui entra proprio in casa di un peccatore. Sì, abbiamo letto qui al verso 7, veduto questo tutti mormoravano dicendo è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. sapevano che era un peccatore e Gesù entra proprio in casa di quest'uomo, sì, perché quest'uomo era perduto, perché quest'uomo appunto era un peccatore e Gesù dice in quell'occasione oggi la salvezza è entrata in questa casa poiché anche questo è figlio di Abramo. Accade un miracolo quel giorno in casa di Zaccheo perché da quel giorno nella sua casa e da quel giorno nel suo cuore entrò la gioia, entrò la pace, entrò la salvezza perché entrò Gesù nella sua vita. Ha perso il cuore a Gesù ed egli confessò addirittura la sua condizione e disse ecco signore io do la metà dei miei beni ai poveri, se offro dato qualcuno di qualcosa gli rendo il quadruplo e allora Gesù disse oggi la salvezza è entrata in questa casa. Mentre tutti mormoravano e dicevano è andato ad alloggiare in casa di un peccatore, Gesù dice oggi la salvezza è entrata in questa casa. Gloria a Dio perché egli è entrato anche nelle nostre case è entrato anche nella nostra vita e probabilmente molti ancora debbono aprire il loro cuore, le loro case al Signore. Io spero che questa sia la serata giusta anche per te per aprire il tuo cuore affinché anche nella tua vita possa entrare la gioia, possa entrare la pace, possa entrare la salvezza, possa entrare Gesù Cristo il Signore. Vedete questa storia ci insegna che non c'è persona e non c'è condizione sociale, non c'è peccato e non c'è azione criminale, azione cattiva di alcun genere che possa cancellare dalla memoria e possa cancellare dal cuore di Dio uno solo dei suoi figlioli perché Dio è colui che si ricorda. Dio ricorda Zaccheo, Dio ricorda quell'uomo e interviene per purificarlo e non c'è peccato che non possa essere purificato e lavato per mezzo del sangue di Gesù Cristo, non c'è anima per quanto abbia potuto grandemente, gravemente peccare essere lavata e purificata per mezzo del sangue di Gesù. Egli non dimentica nessuno di quelli che ha creati e li raggiunge, li raggiunge per purificarli come raggiunge Zaccheo. Nel dire Zaccheo quando lo vide su quel sicomoro, Zaccheo in realtà vuole dire io mi sono ricordato e sono qui per purificarti, scendi presto che oggi debbo albergare in casa tua. Credi tu che il Signore si stia ricordando di te stasera e ti vuole purificare e può purificarti, può perdonarti e vuole entrare in casa tua. Zaccheo secondo la mentalità corrente ha tutto, ha il potere, ha il denaro, è un uomo ricco, può dirsi dal punto di vista del pensiero corrente un uomo arrivato, un uomo completo, ha fatto carriera potrebbe in qualche modo accontentarsi, essere soddisfatto quindi e godere di quello che ha realizzato, godersi le ricchezze che ha accumulato, il denaro che possiede, vivere una vita agiata e serena. Ma il suo desiderio di vedere Gesù ci sorprende perché è un uomo che è a capo comunque dei pubblicani e che è ricco ha un desiderio, voleva vedere chi era Gesù. Quest'uomo così benestante ci sorprende per il suo desiderio di voler vedere Gesù. Che cosa lo avrà spinto a ricercare quindi l'incontro con il Signore? Sarà stata solo la curiosità, non lo sappiamo. Si rendeva conto che probabilmente che il potere, che il denaro, la posizione che aveva raggiunto non gli procuravano la pienezza della gioia nel vivere, probabilmente non era contento quindi della sua vita, non aveva raggiunto la gioia, non aveva raggiunto la serenità o probabilmente con il denaro che possedeva non poteva acquistare la serenità, non poteva acquistare la gioia, non poteva acquistare le amicizie, era odiato dagli altri proprio a motivo del denaro e con quello stesso denaro non poteva comprare l'amicizia, non poteva comprare la fiducia della gente, la gente diffidava di lui e Zaccheo sente il desiderio di andare oltre quindi perché probabilmente quella vita non lo soddisfa, egli non vuole fermarsi, non si accontenta, probabilmente tante volte avrà pensato al significato della vita, ai perché della vita, al come della vita, tante cose che riguardano la vita. In una parola possiamo dire che Zaccheo era insoddisfatto, egli era insoddisfatto, non gli bastavano più i discorsi fatti dagli uomini di quel tempo, non gli bastavano probabilmente i discorsi ripetuti, scontati, dei sapienti, dei farisei, probabilmente dei suoi pochi amici ricchi, dei potenti, ma in sostanza neanche lui sa di cosa ha bisogno e cosa deve cercare. Qui leggiamo semplicemente che era ricco e subito dopo aggiunge cercava di vedere chi era Gesù. Cercava di vedere chi era Gesù. Allora si accorge che non basta la sua intelligenza, si accorge che non basta la ricchezza, si accorge che non basta l'esperienza forse, che so, la cultura, si accorge che tutto questo non basta perché egli sta cercando qualcos'altro e lasciatemi dire che probabilmente inconsciamente egli sta cercando la vita. Infatti il nostro testo dice cercava di vedere chi era Gesù. Gesù, colui che disse io sono la via, la verità e la vita. chi cercava Zaccheo? Forse cercava proprio la via, forse cercava proprio la verità, che non trovava da nessuna parte, eppure era un uomo di esperienza, come Pilato che disse che cos'è verità, un uomo di esperienza, altro che esperienza, eppure egli non trovò la verità, aveva davanti la verità, ma non riconobbe che Gesù era la verità. Zaccheo cercava la vita perché era insoddisfatto e aveva bisogno della vita. Ed ecco, cerca di vedere Gesù, vuole vedere Gesù. E probabilmente di Gesù gli saranno giunte alle orecchie le sue parole, i suoi discorsi. Zaccheo era un ricco, probabilmente ha udito parole strane, parole inaspettate, pronunciate da quest'uomo seguito sempre da folle, circondato da grandi folle, i quali diceva beati i poveri. Zaccheo era ricco, quest'uomo seguitissimo da tutti diceva beati i poveri. Ma che vorrà mai dire quest'uomo beati i poveri? E diceva beati gli umili, e non era certamente Zaccheo un umile, beati gli afflitti. E quindi questi discorsi strani, beati gli affamati di giustizia, per esempio, sono discorsi che sono in netta contrapposizione con il ragionamento del mondo e dell'umanità in ogni tempo, perché sono ritenuti beati sempre coloro che sono più ricchi, coloro che che posseggono, che sono al di sopra degli altri e al di sopra di tutti. Ma queste parole giunte alle orecchie di Zaccheo probabilmente lo hanno indotto a riflettere. Oppure io sono, come dicevo prima, la via, la verità, la vita. Parole per lui inconsuete, ma forse proprio per questo parole affascinanti che l'hanno indotto a riflettere. Parole nuove, parole diverse, forse anche tu stai ascoltando parole che non avevi mai udito prima. Parole nuove. Chi sarà colui che afferma queste cose? Io posseggo delle ricchezze. Quest'uomo dice che sono beati i poveri, cioè letteralmente sono felici i poveri. Ma effettivamente io che sono ricco non sono felice, mi manca qualcosa. Quest'uomo dice che sono beati gli umili, gli afflitti, gli affamati di giustizia. Ma io posseggo tante cose e non sono beato, non sono felice. Debo interessarmi un po' di più. Debo cercare di vedere chi è quest'uomo. Debo capire il perché di questo ragionamento, che cosa significa beati i poveri. Perché effettivamente nella via che io ho seguito, che è stata quella della ricchezza, del diventare sempre più grande, sempre più potente, non ho raggiunto la beatitudine. Non sono felice. E allora cercava di vedere chi fosse Gesù. E se fosse proprio lui quello che io sto cercando? Perché in realtà era insoddisfatto e cercava la vita. E se fosse proprio lui che dice io sono la vita, sono la verità, sono la via, notate che un dubbio sorge nel cuore di quest'uomo, di Zaccheo. E noi dovremmo riflettere sul valore del dubbio. Figlio d'uomo, dice il Signore ad Ezechiele, queste ossa potrebbero rivivere, queste ossa secche potrebbero rivivere. Semina in qualche modo il dubbio nel cuore di una persona che non si pone minimamente il problema che un mucchio di ossa possano rivivere. Ma la parola di Dio semina il dubbio. E Dio si è lodato perché anche Zaccheo viene a trovarsi dinnanzi al dubbio. Diamo un valore al dubbio perché è proprio il dubbio che lo induce a vedere chi era Gesù, ad approfondire la conoscenza di Gesù. Ascolta i suoi discorsi e vuole saperne di più. Ma ha due problemi. La folla che circonda Gesù. E quindi a motivo della folla egli non può vedere Gesù perché ha un secondo problema che è basso di statura. E a motivo della sua statura la folla dinnanzi si frappone tra lui e Gesù e egli non riesce a vedere chi è Gesù. Sono due difficoltà, due problemi. Era piccolo di statura. Questo ci fa riflettere sempre sulla vita di Zaccheo, su questa persona, i suoi problemi, la sua storia. Quindi è Zaccheo, è un individuo. Ha delle difficoltà perché ci sono persone che solo perché hanno potere e solo perché hanno denaro e hanno possibilità pensano di essere grandi e invece sono grandi dal punto di vista terreno, sono grandi dal punto di vista umano, altri perché hanno una grande cultura, pensano di essere grandi e di poter arrivare a tutto e a tutti, altri hanno altre grandi facoltà e pensano di essere grandi e di poter raggiungere tutto, ma in realtà per conoscere il Signore, in realtà per arrivare al Signore tutti gli uomini sono piccoli di statura. L'uomo ci dice la parola che a motivo del peccato è incapace di arrivare al Signore e di conoscere il Signore. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Letteralmente non possono vedere il Signore. La gloria di Dio sta a significare la persona di Dio e quindi a motivo del peccato l'uomo non può vedere il Signore, non può avere comunione con Dio. Anche se l'uomo è importante, è grande dal punto di vista umano e allora sono bassi di statura spirituale. Manca l'altezza della fede, manca l'altezza di questo desiderio spirituale per poter vedere chi è Gesù. Zaccheo probabilmente viveva anche un certo complesso di inferiorità rispetto agli altri e con il suo danaro non poté comprare neanche un centimetro da aggiungere alla sua statura ed essere anche fisicamente più alto degli altri. Era più ricco degli altri ma non poté mai essere più alto degli altri e non poté compensare questa sua inferiorità guadagnando il più possibile. Spremeva gli altri quanto poteva dagli altri per aumentare con le sue ricchezze, anche la propria autostima. Alcuni credono che la stima degli altri dipenda dal proprio conto in banca e più cospicuo il conto in banca più gli altri abbiano stima della persona e altri ancora riescono a credere nella loro grandezza soltanto rendendo piccoli gli altri, umiliando gli altri e si sentono un po' più alti ma sono bassi di statura, moralmente, spiritualmente, sono bassi di statura. Alcuni vogliono stare al di sopra con le parole, vogliono stare al di sopra con i discorsi, vogliono stare al di sopra con le loro verità, con le loro affermazioni, ma sono bassi, sono piccoli di statura spiritualmente non riescono a vedere Gesù. Gli altri invece riescono a stare vicini a Gesù, ma Zaccheo non può vedere Gesù e quindi doveva porsi al di sopra degli altri, poiché evidentemente accanto a loro si riteneva piccolo, si riteneva basso e quindi porsi al di sopra degli altri, ma porsi al di sopra degli altri come faceva Zaccheo con le sue ricchezze, porsi al di sopra degli altri con il possedere, autorità eccetera, alla fine lo rende solo e Zaccheo è solo e sente il bisogno di vedere chi era Gesù. Vedete come si delinea questa persona man mano che andiamo avanti ed ecco che a questo punto leggiamo allora per vederlo corse avanti e salì sopra un sicomoro perché Gesù doveva passare per quella via. Per vedere Gesù sale sopra questo albero, sapeva che Gesù doveva passare per quella via, ecco che ancora una volta Zaccheo sale, sale al di sopra degli altri, questa volta però sale ma senza schiacciare nessuno, questa volta sale su un sicomoro per vedere Gesù perché ha bisogno di quell'incontro con lui, ha bisogno di vedere chi è Gesù perché sente il bisogno di vivere diversamente, perché probabilmente vede la beatitudine e vede la felicità degli altri che sono intorno a Gesù, che sono vicini a Gesù, che hanno ricevuto del bene da Gesù, che hanno ascoltato con piacere la parola del Signore, sono rimasti particolarmente benedetti dalla parola del Signore e quindi anche egli sente il bisogno di vivere diversamente, sente il bisogno in sostanza di cambiare, di convertirsi, di che qualcosa accada in sostanza nella sua vita. Sale su questo sicomoro e quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse, Zaccheo scendi presto perché oggi debbo fermarmi a casa tua. Gloria al Signore. E leggiamo qui che egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Che cosa accadde in quel momento? Immaginate quest'uomo su un ramo di un albero che viene riconosciuto da Gesù. Gesù alza gli occhi e lo chiama per nome e gli dice Zaccheo. In quel momento nel dire Zaccheo la prima cosa che viene in mente a Zaccheo è proprio che Gesù lo ha chiamato per nome. Dio si ricorda e Dio vuole purificare. Gloria al nome del Signore. Che meraviglia! Chi avrà pensato? Ma allora Gesù mi vede? Ma allora Gesù mi vede? Sì, Gesù ti vede, come vide Zaccheo. Egli conosce il tuo nome, conosce le situazioni della tua vita, conosce le tue angosce, conosce i tuoi problemi, conosce le tue insoddisfazioni, conosce il tuo peccato, conosce le emozioni che sorgono nel cuore di ognuno come conosce le mie e le tue emozioni. E soprattutto Egli si ricorda di ciascuno, si ricorda di te e si ricorda di me. Dio non può dimenticare, quando anche una madre dimenticasse, io non vi dimenticherò perché vi ho scolpiti sul palmo delle mani. Gloria al Signore. Quei chiodi sono stati conficcati nelle mani di Gesù perché Dio ha tanto amato il mondo. E Gesù, dando la sua vita sulla croce, si è ricordato di tutti, ma veramente di tutti. Anche di chi è stato completamente dimenticato come Zaccheo, che non aveva amici come Zaccheo. Gesù invece alza gli occhi e gli dice Zaccheo, scendi presto perché oggi debbo albergare in casa tua. Gloria al Signore. C'è bisogno in casa tua e io mi sono ricordato anche di te. Eccomi qua. Gloria a Dio. Sì, che cosa pensa Zaccheo? Ma allora il Signore si è ricordato di me. Lui non lo conosceva. Voleva vedere, cercava di vedere chi era Gesù, ma in realtà scopre che Gesù già conosce lui e lo chiama per nome. Chiamandolo per nome vuol dire che conosce tutto della sua vita. Gloria a Dio. A me rallegra il fatto che Gesù si ricordi. Gloria a Dio. Mi rallegra soprattutto quando egli sulla croce, dando la sua vita, si è ricordato del mondo intero, si è ricordato anche di me. Gloria a Dio. Chi avrà pensato Zaccheo? Perché leggiamo in questo testo, si affrettò a scendere, lo accolse con gioia. Nacque gioia nel cuore di quest'uomo, già sul ramo di quell'albero appena udì il nome, Zaccheo scendi perché debbo albergare in casa tua. Già questo contribuì a cambiare la vita di quest'uomo perché si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Semplicemente il fatto che Gesù lo conoscesse e semplicemente il fatto che Gesù voleva albergare proprio in casa sua dove nessuno voleva entrare perché era un peccatore. Avete presente i mormorii? Tutti mormoravano perché era un peccatore e Gesù invece vuole entrare in casa di quel peccatore. Ma allora non solo mi conosce, non solo quindi si è ricordato di me, ma allora vuol dire che egli è l'unico che è veramente un amico e mi ama. È interessato a me, Gesù mi ama. Molta gente odiava Zaccheo. Egli non era il benvenuto nelle loro case e neanche la gente entrava in casa sua facilmente. Ma lo sguardo di Gesù, le parole di Gesù furono speciali. Egli si sentì in qualche modo corteggiato. Dio ti ama nonostante la tua indegnità, la mia indegnità, Dio ci ama. Gloria al nome del Signore. È meravigliosa questa parola, noi non riusciremo mai a comprenderlo appieno. Dio ci ama. Pensò, ma allora c'è qualcuno che mi vuole? C'è qualcuno che mi desidera? C'è qualcuno che è interessato a me? Nessuno era interessato a Zaccheo. Ed ecco che scese di corsa dall'albero con premura, con precipitazione, con urgenza. Leggiamo scendi presto ed egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Si affrettò, ci parla di urgenza, di premura. Scese e accettò, ricevette Gesù nella sua casa. Mi fa pensare a quanti non nonostante abbiano ricevuto particolari attenzioni da parte di Dio e dimostrazione dell'amore di Dio, ancora resistono, ancora vanno piano, ancora prendono tempo, probabilmente perché non si fidano ancora del Signore. Evidentemente non hanno compreso l'urgenza che hanno di incontrarsi col Signore, l'urgenza che hanno di ricevere Gesù nella propria vita, nel proprio cuore e nella propria casa. Dio vuole intervenire nella tua casa perché vuole cambiare le cose nella tua casa. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Oggi la salvezza vuole entrare anche nella tua casa. Oggi la salvezza vuole entrare nel tuo cuore. Oggi non una religione vuole entrare nella tua casa, vuole prendere possesso della tua casa, ma il Signore, il Signore, Gesù Cristo, il Signore vuole entrare nella tua vita, vuole entrare nel tuo cuore perché Egli vuole farti del bene, Egli si è ricordato di te ed Egli vuole purificarti, vuole salvarti, vuole lavarti da ogni peccato e fare di te una nuova creatura. E un altro pensiero che ebbe sicuramente Zaccheo è Gesù deve avermi completamente e subito scese prestamente. Fu un giorno meraviglioso quando volse il suo sguardo al Signore, quando aprì il suo cuore al Signore, quando aprì la sua casa al Signore ed entrò Gesù Cristo, tutto cambiò. Quell'uomo venne pienamente soddisfatto e all'istante, all'istante, quando Gesù entrò in casa sua, Egli subito si fece avanti e disse al Signore, ecco Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Una dimostrazione di trasformazione, di conversione e soprattutto una dimostrazione che da quel momento in poi Egli non confida più sulle ricchezze, non confida più sul potere che deriva dalle ricchezze, ma da quel momento in poi Egli confida nel Signore. Quindi do la metà dei miei beni ai poveri e poi se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo quattro volte tanto, vuole dire Signore, da adesso io confido in Te, perché ho trovato ciò che cercavo. Pensavo fosse la ricchezza, la soddisfazione, ma non lo è stato. Pensavo fossero gli amici, ma non lo è stato. Pensavo fosse il potere e non lo è stato. Alcuni pensano la cultura ed altro. Nulla può portare soddisfazione, soltanto Gesù può appagare pienamente il cuore e l'anima. Apri anche tu il cuore al Signore. Lo stesso Gesù che allora parlò a Zaccheo, attraverso questa parola dice a te, perché Zaccheo siamo io e te. Zaccheo riguarda la nostra storia, Zaccheo riguarda la nostra vita, Zaccheo riguarda quindi la nostra famiglia, riguarda la nostra casa, le nostre ansie, le nostre malattie, i nostri problemi, i nostri pensieri, i nostri dubbi. Zaccheo siamo noi. E allora lo stesso Signore che disse Zaccheo dice a te stasera, io mi ricordo di te, io ti conosco, fammi entrare a casa tua perché io posso purificarti. Vogliamo chinare i nostri capi insieme. a te, io mi ricordo di te, io ti conosco, fammi entrare a casa tua